Quest'anno, il nostro dono è più di un semplice regalo sotto l'albero. È un viaggio che abbraccia il nostro impegno per un mondo migliore. A ogni tappa di questo percorso si è aggiunto un passeggero in più. E l'emozione più grande è vedere la nostra famiglia crescere. A partire dai fornitori locali, che ogni giorno ci garantiscono prodotti freschi e genuini. Ora c'è un passeggero speciale a cui vorremmo dire grazie per aver condiviso con noi un anno di momenti preziosi. E quel passeggero sei tu.